Grazie a tutti. Si fanno i primi conti con l'addio di Ryanair. I dati Enac confermano come sia irrinunciabile la presenza della compagnia irlandese. Ieri riunione in fiume tra la maggioranza e il Partito Democratico. Convergenza sul programma. Stasera il sindaco incontra l'Udc che dopo la rottura di novembre potrebbe rientrare tra i ranghi, attesi sviluppi all'inizio della prossima settimana. L'episodio di Pasquetta con un centinaio di persone costrette ad aspettare per circa due ore un nuovo treno riporta in primo piano le criticità del trasporto ferroviario. Tony Faedda chiede un intervento unitario dei sindaci di Almedo, Alghero e Sassari. Un saluto a tutti voi ben ritrovati con l'appuntamento quotidiano con l'informazione locale su CatalanTV. Anche quest'oggi parliamo di aeroporto e di Ryanair. La prossima settimana è in programma il tavolo, l'incontro a Roma al Ministero dei Trasporti per parlare appunto di lo costo anche con i vertici della compagnia irlandese. Il sindaco Mario Bruno sottolinea come Ryanair sia irrinunciabile per Alghero un dato confermato anche dal report del 2015 dell'Enac. Sperando di non doversi ritrovare a fare la conta dei danni tra qualche mese, intanto Alghero guarda con attenzione ai dati Enac del 2015 che confermano la dipendenza del nostro scalo alle low cost. Oltre un milione di passeggeri, circa il 70%, un dato non certamente nuovo ma che pone l'accento sul forte legame tra la rivera del Corallo e Ryanair, che sempre secondo i dati dell'Enac si conferma prima compagnia aerea d'Italia per il secondo anno consecutivo, con quasi 30 milioni di passeggeri trasportati. Il volo tra Alghero e Londra, che in ottunno verrà cancellato, invece è al top della classifica delle rotte internazionali in Sardegna, con 82 mila passeggeri trasportati nel 2015. Proprio con il collegamento per l'aeroporto di Stansted, nel 2000 era iniziata l'era Ryanair ad Alghero, che dopo 16 anni sembra destinata a chiudersi. Eventualità che un po' tutti sperano di scongiurare, anche se per convincere la compagnia irlandese a tornare indietro servirà innanzitutto una retromarcia del governo sull'aumento delle tasse aeroportuali e poi un efficace intervento della regione. Alla luce dei dati diffusi dall'Enac è evidente come la chiusura della base Ryanair prevista il prossimo autunno, costituisca un grave danno per l'economia, non solo per Alghero ma per tutto il nord-ovest. Intanto si aspetta solo l'ufficialità sui voli internazionali che l'Italia potrebbe attivare ad Alghero. Anche la stampa catalana ha parlato del collegamento che l'ex compagnia di bandiera dovrebbe attivare con l'aeroporto di El Prat, ma il sindaco Bruno sottolinea come resti irrinunciabile il valore di Ryanair anche per la sua capacità di riempimento dei voli nella programmazione del nostro scalo. Occorre lavorare a tutti i livelli, in primis la regione che su questo fronte non è stata particolarmente incisiva. E ora parliamo di cronaca per riferirvi di un brutto incidente avvenuto nella tarda serata di ieri. Intorno alle 23.30 un 48enne che percorreva Viale Burruni in direzione Fertilia ha perso il controllo del suo SUV, un Land Rover Freelander, abbattendo un palo dell'illuminazione e terminando la propria corsa contro il muro di recinzione che delimita l'area del campeggio, confinante con la strada. immediato l'arrivo del personale del 118 che ha trasportato l'uomo in ospedale, sul luogo anche polizia e carabinieri. L'autista ha riportato diverse ferite, alcuni traumi, ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione. E ancora una volta il liceo scientifico Fermi di Alghero è stato preso di mira dai vandali. Nella notte tra martedì e mercoledì ben 13 vetri delle finestre della struttura sia al piano terra che al primo piano sono state infrante dal lancio di pietre. Un danno che prevede un costo a finestra rilevante, ma che non ha comportato fortunatamente l'interruzione della normale attività curricolare del liceo e dei suoi alunni. Nelle immagini girate questa mattina potete vedere le aule interessate dai danni alle finestre. La scuola tra l'altro ha presentato una denuncia alla polizia. Come detto però non è la prima volta purtroppo che l'istituto algherese deve fare i conti con l'Adri e Raed Vandalici. Questa mattina ai nostri microfoni il preside del liceo scientifico Fermi Antonello Colledanchise ha parlato della necessità di fare prevenzione educativa. Sentiamo. Purtroppo dobbiamo tornare a fare delle considerazioni educative su queste cose che capitano di tanto in tanto, che colpiscono istituzioni pubbliche e talvolta anche la scuola. In questo caso sono tornati al liceo scientifico, durante le vacanze di Pasqua c'è stata un'incursione al liceo artistico. Le scuole che sono un pochino più ai margini della città, che sono abbandonate e che diventano oggetto di giochi strani da parte di ragazzini minorenni. Perché dicevo una riflessione di tipo educativo? Perché secondo me bisogna fare una prevenzione nei confronti di questi ragazzi utilizzando le sinergie tra la famiglia, la scuola, le parrocchie, il comune di Agliero. Cioè le associazioni culturali cercare di fare in modo che ci sia una prevenzione educativa tale che si insegni il rispetto verso tutte le persone, verso tutte le cose che ci appartengono. Purtroppo è stato fatto del danno, ma per fortuna il danno non è stato tale da interrompere le lezioni, perché l'attività didattica, come potete vedere, sta continuando tranquillamente, anche se in qualche testata giornalistica è stato fatto capire il contrario. Le lezioni continuano per fortuna bene, però il danno è stato fatto ed è un danno per tutta la comunità aglierese. E ora ci fermiamo per qualche istante, a tra poco. Respinta dal Tar, la richiesta di sospensiva presentata da Ciclat e Devizia sull'appalto di nettezza urbana, che come noto è stato aggiudicato dall'Ambiente 2.0. Il Tribunale esaminerà comunque il prossimo 25 maggio i ricorsi delle due società e questo potrebbe allungare i tempi per dare il via al nuovo servizio. Infatti, come noto è necessaria la firma del contratto con il Comune. È probabile che l'amministrazione scelga la via della prudenza, tendendo appunto il pronunciamento del Tar. Inevitabile però che ci siano timori, in tal senso per il fatto che la decisione del Tribunale arriverà in una data particolarmente vicina alla stagione estiva. E ora la politica. Come abbiamo detto più volte, anche ultimamente, il mese di aprile potrebbe essere quello decisivo per l'allargamento della maggioranza guidata da Mario Bruno. Ieri sera, riunione Fiume con una delegazione del PD trovata una sostanziale convergenza su un nuovo programma dal quale ripartire, resta il nodo legato all'azzeramento di giunta, che è una delle condizioni indicate dai democratici. Domani, previsto un nuovo faccia a faccia proprio con il PD, mentre questa sera il sindaco incontrerà una delegazione dell'Udc, ripartito che, come detto, potrebbe rientrare in maggioranza a distanza di pochissimi mesi dalla rottura, contrassegnata da polemiche e veleni. Tra sabato e lunedì, quindi, varie riunioni dell'intera coalizione, fa sapere lo stesso Mario Bruno, che così dopo mesi di difficoltà, soprattutto a livello numerico in consiglio, spera di chiudere il cerchio con l'allargamento della maggioranza al PD e magari il ritorno, come detto, del partito centrista. Diventano sempre più insostenibili i disagi sofferti dai passeggeri della tratta ferroviaria Sassari, Olmedo e Alghero. Per questo motivo, il capogruppo di minoranza del Consiglio Comunale di Olmedo, Tony Faedda, che anche è candidato a sindaco per le prossime elezioni amministrative, ha presentato un'interrogazione indirizzata all'attuale primo cittadino, Marcello Diez. Nella sua interrogazione, Faedda segnala l'ultimo episodio verificatosi a Pasquetta, quando centinaia di persone, inclusi numerosi minori, hanno dovuto attendere per oltre due ore all'esterno della stazione di Alghero la partenza del treno prevista per le 21.15, riuscendo a far rientro nelle proprie abitazioni solo a tardanotte. Il mezzo partito regolarmente alle 21.15, infatti, non è riuscito a contenere tutti coloro che attendevano in stazione ed è stato necessario, appunto, l'arrivo di un ulteriore treno due ore più tardi. La vicenda, sottolinea Tony Faedda, è l'ultima di una lunga serie che evidenzia le condizioni disastrose in cui versa, a dispetto dei nuovi treni di cui si attende oramai da troppo tempo, la messa in servizio, il trasporto pubblico locale del nord-ovest della Sardegna. I passeggeri, come più volte denunciato da anni, costretti a viaggiare su carrozze obsolete e insicure, devono sopportare anche i sempre più numerosi ritardi dovuti ai continui guasti del materiale grottabile, denuncia il consigliere olmedese, secondo il quale risulta inadeguato anche il servizio di informazione dell'azienda regionale di trasporto, causa di ulteriori gravi inconvenienti a danno dei passeggeri, quasi mai tempestivamente informati dei ritardi, ovvero della cancellazione delle corse. Un ulteriore disagio, però, secondo Faedda, grava sui cittadini di Olmedo, i quali, in assenza di una emittrice automatica, la cui installazione, peraltro, è stata richiesta in più occasioni, nel caso di biglietteria chiusa, devono acquistare il biglietto di viaggio direttamente sui treni, con una ingiusta maggiorazione del prezzo. Da qui la richiesta di Tony Faedda, il sindaco Diez, perché, assieme ai sindaci di Elgaro e Sassari, chieda all'Arst di eliminare o attenuare i disservizi e assumere donne e misure per il concreto miglioramento del servizio di trasporto pubblico. E speriamo, tra l'altro, che anche i nuovi treni che abbiamo visto nel servizio possano entrare in servizio, scusate, nel gioco di parole, al più presto. Ora facciamo un'altra pausa pubblicitaria, tra poco. Sarà dedicata interamente alla marineria locale, la non appuntata di Mikas de Vira Algaresa, che andrà in onda questo giovedì, quindi oggi su CatalanTV alle 15.30, alle 18 e alle 21, come di consueto. L'appuntamento con la trasmissione ideata è condotta da Michele Serra per la regia di Roberto Lampis e le immagini e il montaggio di Paolo Calaresu. Vedrà protagonisti, appunto, i pescatori che svolgono ancora questa attività che da sempre ha contraddistinto il mestiere principe della riviera del corallo. Michele Serra ha pensato di documentare, con l'aiuto delle telecamere di CatalanTV, modalità, tradizioni e alcuni segreti dell'attività dei pescatori. Prosegue così la messa in onda sulla televisione di Alghero di questo programma, completamente in lingua algherese, che puntata dopo puntata va alla riscoperta del nostro patrimonio culturale. La trasmissione, oltre che in chiaro, nel panorama televisivo locale, diffusa anche in internet, in particolare sul nostro canale YouTube, e nella nostra pagina Facebook, che vi invitiamo ovviamente a visitare. Oltre un migliaio le persone, tra gruppi, famiglie e singoli utenti, hanno scelto di trascorrere la Pasquetta nei complessi forestali del parco di Portoconte. Ben 650 gli ingressi nella foresta demaniale di Prigionette Portoconte, dove le guide esclusive del parco afferenti alla cooperativa Esplora Alghera hanno organizzato escursioni guidate di trekking e minitour per i bambini, per l'osservazione degli animali della riserva naturale. Ultimo riscontro anche per le aziende agroalimentari certificate con il marchio della Rete dei Parchi e delle aree protette che hanno esposto i loro prodotti per tutta la giornata. Per niente intimoriti dal tempo incerto e poco primaverile, hanno invaso comunque i complessi forestali del parco di Portoconte, in particolare Punta Giglio e Prigionette Portoconte, utilizzando i servizi, le aree picnichi, sentieri naturali e godendo delle varie iniziative culturali ed enogastronomiche in programma. Sono stati oltre un miliaglio e appassionati delle attività all'aria aperte della natura che hanno scelto di trascorrere la Pasquetta all'interno del territorio protetto. Ben 650 gli ingressi solo nella foresta demaniale di Portoconte Prigionette, dove famiglie, gruppi e singoli utenti sono stati accolti dalle guide esclusive del parco, afferenti alla cooperativa Esplora Alghero e accompagnati in escursioni di trekking verso Monte Timidone e Calabarca. Ma non solo, in tanti hanno gustato prodotti tipici e degustato quanto esposto dalle aziende agroalimentari certificate dal marchio della rete dei parchi e delle aree protette. Grande afflusso anche lungo i sentieri e le aree picnic di Punta Giglio, una delle zone peraltro più riparate al vento di Libeccio che ha aspirato per tutta la giornata di Pasquetta. Presenze interessanti anche nell'area verde recentemente riqualificata dal parco a Tramariglio. Qualcuno inoltre ha voluto sfidare il vento pungente e sostando comunque nella zona di Mugoni nei pressi della spiaggia. Frequentata anche la nuova area ricreativa è per l'osservazione faunistica di via Le Burruni lungo la sponda del Calic. Insomma, un bilancio più che positivo che dimostra il gradimento degli amanti della natura per le iniziative e i servizi messi in campo dal parco di Porto Conte. Il palinsesto, messo a punto dalle guide del parco e denominato Primavera al parco, proseguirà ad ogni modo per tutto il mese di aprile e maggio con escursioni previste nelle domeniche del 3, 10, 17 aprile e primo, 15, 22 e 29 di maggio. E' un'occasione delle iniziative inerenti al DIA Mondiale dell'Algua, attività che fa parte del programma, stabilito dalla Convenzione con la Rete dei Parchi della provincia di Barcellona, il parco regionale di Porto Conte, l'obra cultural dell'Alghè, associazione che si occupa di altre cose della salvaguardia dei valori identitari rappresentativi del nostro territorio, organizza, mettendo a disposizione la propria sede, un incontro dibattito finalizzato a fornire informazioni sulla consultazione referendaria del 17 aprile, dando a tutti dunque un'opportunità in più per discuterne. Introdurrà il biologo, il dottor Antonio Torra, interverrà inoltre il dottor Vincenzo Migaledu, presidente ISDE Sardegna, medici per l'ambiente. L'incontro si terrà sabato 2 aprile alle 19 ad Alghero, presso l'obra culturale in via Arduino 46. E ora un altro break pubblicitario tra poco. L'assessorato all'ambiente, il comando di polizia locale del comune di Alghero, con la collaborazione dell'associazione Onlus, gli angeli del soccorso di Quartus Sant'Elenar, hanno organizzato per sabato e domenica 2-3 aprile nel corso di primo soccorso veterinario rivolto a chiunque abbia un animale d'affezione. I temi trattati nel corso, che si terrà presso la sede del polisoccorso di Alghero, situato in via Liguria 14-16, nelle fasce orarie 9.30-13 e 15.18, sono finalizzati a un primo intervento sul proprio animale d'affezione. Saranno affrontati anche temi come la rianimazione cardiopolmorare, la disostruzione da corpo estraneo, avvelenamenti, torsione gastrica, ferite ed emorragie, fratture, shock, ipotermia ed ipertermia, borsa di pronto soccorso, buone pratiche in caso di calamità ed evacuazione, esercitazioni pratiche su RPC e disostruzione. Il corso sarà tenuto da personale specializzato e appartenente all'associazione Onlus e gli angeli del soccorso. Per iscriversi si può inviare un'email a gliangelidelsoccorso.onlus.gmail.com Sabato scorso invece la società Aliva Volley, quindi siamo passati allo sport, ha organizzato un torneo di mini volley con il patrocinio del Comune di Olmedo. Sentiamo com'è andata. 13 società, arrivate alla Sassarese della Gallura, hanno partecipato al torneo che ha coinvolto oltre 300 bambini, di età compresa tra i 5 e i 12 anni, che si sono alternati in 8 mini campi da gioco, creata all'interno della palestra comunale di Olmedo. Il torneo ha avuto un buon successo tra i più piccoli ed è stata un'occasione di ritrovo per i giovani adulti che hanno assistito ad una bella manifestazione di sport nell'insegna del F-Play. Alla fine del torneo, la S.D. Aliva Volley ha distribuito dei gadget a tutti i bambini partecipanti. Inoltre, è stata organizzata una simpatica lotteria per la vincita di un grande nuovo di Pasqua, vinto dalla società di Porto Torres, la Quadrifoglio Volley. Considerando la buona affluenza di pubblico, la società medese si è detta pronta a rinnovare l'appuntamento con l'initorneo anche il prossimo anno, sempre alla vigilia di Pasqua, con la speranza che questa iniziativa possa avvicinare maggiormente i giovani del Paese a questo sport. E il Volley giovanile chiude l'edizione di Erna del nostro telegiornale. Ora le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e arrivederci. Grazie per essere stati con noi.